Allora stiamo parlando di un'allevazione che dal punto di vista del carattere, dell'aspetto umano abbiamo imparato a conoscere, c'è chi di noi lo conosce molto molto bene, tutti lo stimiamo e quindi deve essere stato sicuramente un momento di blackout. Però dobbiamo tutti convenire su una cosa, se si parla di non violenza, un episodio del genere non si può vedere né giustificare con la provocazione. Giustificare non significa rimarcare che c'è prima qualcosa che fa sbagliare poi Rossi di brutto.